Il Governo è a lavoro per mantenere inalterato il costo dei carburanti anche dopo il 2 maggio, data limite nella quale erano stati eseguiti degli interventi per calmierare i prezzi che erano andati alle stelle. Il taglio di 25 centesimi delle accise, entrato in vigore lo scorso 22 marzo per far fronte al caro carburanti, verrà quasi certamente prorogato. La misura dovrebbe essere contenuta in un decreto legge atteso per i prossimi giorni. Sul piatto c'è un tesoretto da circa 6 miliardi che però servirà anche per altri provvedimenti. Il nodo è come sempre tutto economico, il taglio del costo della benzina costa allo Stato quasi 600 milioni al mese e per prorogare lo sconto fino al 30 giugno servirebbero poco meno di 1,2 miliardi. Da capire dunque come saranno le fasi di questo nuovo intervento.